Ciao a tutti, ringrazio Simona Campus, direttrice dell'ex MA di Cagliari, che mi ha invitato a partecipare a questa iniziativa. Iniziamo con dei lavori della fine degli anni 90. Qui siamo già negli anni 2000. Dobbiamo curiosare cosa c'è dietro questa tenda. Abbiamo un lavoro con vari materiali. Mettela nei tuoi miranti e lasci ci osservano. E ora vediamo dei lavori più recenti. Ciao a tutti, state a casa. Iscriviti al nostro canale.